La sindrome post-trombotica è un insieme di sintomi e segni che colpisce i pazienti che hanno una trombosi venosa profonda. È una delle complicanze più frequenti, circa la metà dei pazienti che ha la trombosi venosa profonda rischia di avere una sindrome post-trombotica che ha un complesso, come dicevo, di segni e sintomi che vanno dal senso di pesantezza al dolore e agli arti inferiori fino ad arrivare all'ulcera, cosa, come si può capire, altamente invalidante e anche fonte di un costo che riguarda non solo le cure ma anche l'assenza del lavoro. Quindi prima di tutto bisogna essere consapevoli di questa complicanza e mettere in atto una serie di misure per prevenire la complicanza. Ovviamente ci sono dei pazienti che sappiamo hanno più rischio di andare incontro a questa sequela post-trombotica e per esempio ci sono dei fattori che sono anche modificabili, vedi l'obesità, mentre degli altri sui quali non ci si può fare nulla, come per esempio l'interessamento della trombosi che riguarda le vene femorali iliache, cioè sono le vene che vanno verso l'addome e quindi sono delle trombosi più importanti, oppure la sintomatologia, se uno già all'esordio ha dei sintomi importanti avrà più facilità ad avere la sindrome post-trombotica e ovviamente l'età che purtroppo non è modificabile, nonché la presenza di varici. E poi ci sono altri sintomi, così fattori meno importanti, come ad esempio nel collettivo generale si pensa che magari la trombofilia sia importante, ma non è così. Quindi noi dobbiamo mettere in atto delle misure di prevenzione su quello che sappiamo essere un fattore molto forte. Il più forte, il più predittivo e il più serio è la recidiva di trombosi. Questo significa che quando noi trattiamo la trombosi venosa profonda, dobbiamo fare un trattamento con farmaci adeguati, per esempio i nuovi farmaci che usiamo, gli anticoagulanti diretti, per un periodo sufficiente e eventualmente prolungarlo anche con dosaggi in alcuni casi inferiori. Quindi l'idea di una malattia cronica con un trattamento cronico è importante anche per prevenire questa complicanza che è la sindrome posttrombotica. Un presidio importante è la calza elastica, che in letteratura ha avuto fasi alterne, partendo da studi che, anche se non erano studi numerosissimi, davano un'efficacia e un beneficio netto, totale, importante, ad altri studi che invece l'hanno messo un po' in discussione, salvo che recentemente proprio ci sono dei nuovi studi che dicono che si può anche personalizzare nell'era della medicina personalizzata, quindi usare la calza elastica per periodi magari più brevi in base alle caratteristiche del paziente.